Sotto l'ombrellone dall'alba al tramonto per godersi un po' di sole e del buon cibo. Tra gli imprenditori marchigiani che investono nel proprio territorio c'è Vanni dello stabilimento La Vela a Falconara Marittima. Siamo in provincia di Ancona. A quanto pare Falconara ha delle belle situazioni che negli anni si sono sviluppate come il nostro ristorante. Tre anni fa abbiamo aperto e piano piano cerchiamo sempre di migliorare soprattutto nel servizio e nella cucina. Il nostro stabilimento ha il campo da beach tennis, beach volley e in più ha questi gazebi da quest'anno che nel nostro ritorale sono una particolarità. Per combattere la crisi in spiaggia si offrono sempre più servizi. Il mercoledì facciamo una serata musicale che accompagna la cena dei nostri clienti. Poi mano a mano col passare delle ore la musica aumenta di intensità e di ritmo. In una nostra prerogativa qui a Falconara che abbiamo vicino ai ristoranti tutti quanti dei giochi. Praticamente quando i genitori magari che hanno dei bambini di 3-4 anni che non possono andarcene fuori perché i bambini fuggono a destra a sinistra, qui c'è la possibilità di mangiare in tranquillità vedendo sempre il bambino che gioca a 2 metri di distanza. Nelle marche in genere non soltanto i prezzi sono abbordabili ma gli operatori quest'estate hanno cercato come vanni di incoraggiare la clientela con offerte speciali che in molti sembrano aver gradito. E per invogliare i turisti a trascorrere una giornata al mare ci sono anche iniziative per le famiglie con attrazioni e attività sull'arenile.